Sarà una Prato blindata, quella che nel pomeriggio di domani ospiterà il corteo di Forza Nuova con la presenza del segretario nazionale Roberto Fiore e il presidio antifascista Intolleranza Zero, convocato da decine di partiti, movimenti e associazioni in piazza delle carceri. Le due iniziative richiameranno migliaia di persone e ci sono forti timori per l'ordine pubblico nonostante gli appelli alla calma arrivati da più parti. La manifestazione del movimento di estrema destra, ufficialmente contro l'immigrazione ma che cade nella data simbolica dei cento anni della fondazione del fascismo come richiamato anche nel manifesto, si snoderà dalle 15.30 da piazza della stazione fino a piazza del Mercato Nuovo dove dovrebbe parlare Fiore. Il presidio invece dovrebbe restare in piazza delle carceri e nelle zone limitrofe con inizio previsto alle 14.30. Sulla carta quindi non ci sono punti di contatto tra le due manifestazioni ma l'attenzione è molto alta al punto che arriveranno a Prato rinforzi sia per carabinieri che per polizia in totale saranno circa 300 le forze dell'ordine presenti. Del resto in questi dieci giorni la tensione sulla manifestazione è andata crescendo progressivamente con forze politiche, sindacali dell'associazionismo e persino la Chiesa che hanno cercato in tutti i modi di far bloccare l'iniziativa. Online sono state raccolte oltre 20.000 firme e una petizione ma prefetto e questore sono stati rimovibili non ravvisando nella manifestazione il rischio di apologia del fascismo che avrebbe portato al divieto. Proprio oggi Diego Blasi a nome dell'associazione Prato 2040 ha presentato in procura un esposto per chiedere di valutare il comportamento del questore e del prefetto ipotizzando una possibile violazione delle leggi Scelba e Mancino procura che su iniziativa del procuratore Giuseppe Nicolosi ha già aperto un fascicolo al momento contro i gnoti proprio per il reato di apologia del fascismo. Nicolosi ha incaricato la Digos di raccogliere tutto il materiale presente anche in rete sulla manifestazione da unire all'indagine già aperta sulle svastiche tracciate davanti alle sedie DPD e Ampi. Tra l'altro ieri il Consiglio Comunale con 17 voti favorevoli e 5 astensioni ha approvato l'ordine del giorno che esprime contrarietà alla decisione del prefetto e del questore di consentire la manifestazione di forza nuova. Da sottolineare che oltre alla maggioranza il documento è stato approvato dal Movimento 5 Stelle da Prato Libera e Sicura, mentre Forza Italia, Energie per l'Italia e Prato Concenni hanno motivato l'astensione con la non condivisione della critica rivolta al prefetto e al questore.